tavola e numeri no no quello quello assolutamente no è una squadra che pensava era convinta di partire diciamo così meglio volevo dico il piede giusto ma non è partita neanche malissimo perché sono stati sfortunati molto sfortunati nella gara con l'alessandria e adesso l'unica gara che hanno toppato è stata quella di pontederaco tutto cuoio nelle altre gare hanno pareggiato in casa col piacenza hanno pareggiato a dolbia poi hanno pareggiato a livorno l'ultima gara dove tra l'altro hanno cambiato anche il sistema di gioco dove sono pensi 5 3 2 e quindi questo ci ha lasciato un po così sul chi va là non sapendo bene con quale sistema di gioco inizierà domani la gara la lucchese e questo ci ha messo nelle condizioni di dover preparare la partita contro due sistemi di gioco diversi e quindi siamo dovuti stare un pochettino più in campo però a parte fa parte un po del lavoro del lavoro nostro guarda una lucchese che secondo me ha raccolto meno di quello che meritava soprattutto nell'ultima gara interna contro l'alessandria avrebbe strameritato qualcosa di più al di là del rigore sbagliato penalizzata anche secondo me da un campo pessimo perché il portelisa in questo momento non è in buone condizioni è una squadra che anche qualità che anche tecnica perché giocatori come bruccini giocatori come mingazzini mezzo al campo hanno qualità per poter impostare anche da dietro l'azione e hanno giocatori anche abili nell'uno contro uno come terraneo come di feo quindi probabilmente anche il giocare su un campo non in buone condizioni li penalizza è una possibilità questa è una possibilità ma ci ha lasciato un pochettino perplesso il fatto che che sia passato con la difesa 5 e soprattutto 5 e un vertice basso cioè 352 mingazzini basso davanti alla difesa lì se lavoriamo con le due punte dovremmo andare a lavorare a schermo sul centrocampista centrale perché altrimenti perdiamo troppo campo e non lo vorrei fare considerando anche la fisicità che hanno vediamo vediamo abbiamo lavorato in tutti e due i modi ai ragazzi ancora non ho comunicato la formazione quindi vediamo io orientativamente ho già deciso però voglio aspettare voglio aspettare stasera prima di comunicarlo domani nella riunione tecnica ai ragazzi però l'orientamento è quello comunque di sempre cercare di andare a fare la partita farla nelle condizioni giuste per poter mettere in difficoltà il nostro avversario perché se noi facciamo le cose giuste col piglio giusto con la cattiveria agonistica che sarà necessaria domani perché mi aspetto una battaglia abbiamo le qualità per poter far male a questa lucchese abbiamo le qualità per poter mettere in difficoltà Grazie a tutti.